Mini, segretario nazionale Flai CGL, oggi per l'ennesima volta a Foggia, al ghetto di Borgo Mezzanone, per presentare un presidio della CGL. La CGL da tempo segue la questione dei migranti nei ghetti. Finalmente, insomma, un'operazione reale di sostegno a questi migranti. Sì, insomma, non è la prima volta. In questo ghetto siamo di casa come negli altri ghetti. Però stavolta abbiamo deciso di cambiare anche il nostro approccio. E cioè, avevamo già una sede che continuiamo ad avere all'interno, nel paesino di Borgo Mezzanone. Ci è sembrato più opportuno aprirla proprio nel ghetto. Perché per noi sindacato di strada, che è l'azione sindacale che pratichiamo da tanti anni, significa appunto stare vicino alle persone non chiusi nelle nostre sedi. Quindi, se tradurre questa cosa per il ghetto di Borgo Mezzanone significava essere presenti qui, in una baracca semi, diciamo, migliorata, ecco, diciamo così, perché è in muratura, così come stanno evolvendo le vecchie baracche da cartone e da legno in muratura, e anche noi saremo in mezzo a queste casupole di fortuna con una nostra sede sindacale. La prima cosa che metteremo in campo sono azioni concrete, organizzare le persone, i lavoratori, quindi conoscere bene la loro situazione lavorativa, aiutarli in tutto quello che fanno, per esempio fare dei corsi, come si stanno svolgendo già in queste ore e nei prossimi giorni sempre di più, che possono aiutarli a prendere la patente, una patente che potrebbe essere utile, trasformata poi anche come trattoristi oppure utile per guidare automezzi, e poi tante altre iniziative, ma soprattutto il nostro venire qui in questo ghetto, in mezzo alle persone di cui hanno bisogno, significa una denuncia forte per lo Stato, per le istituzioni che sono latitanti, dopo tanti anni sono latitanti, fanno finta di non vedere che esistono queste situazioni di vergogna per il nostro Paese e mettono la polvere sotto al tappeto. Sono venuti i ministri che hanno fatto delle carrellate, delle sceneggiate, annunciando le ruspe. Noi non vogliamo le ruspe perché queste persone hanno diritto ad un'accoglienza dignitosa e poi i ghetti possono essere cancellati, anzi devono essere cancellati.